Ben ritrovati con un nuovo appuntamento con la parola di Dio. In questi giorni parlavo con una persona, una persona che mi raccontava che era in un periodo particolare felice della sua vita e ad un tratto qualcosa che è arrivato, che è intervenuto nella sua vita, ha interrotto questa gioia. Non sto a raccontarvi cosa mi ha raccontato questa persona, ma ascoltando la sua storia che stava vivendo in quel momento, mi ricordai di qualcosa che è scritto nella Bibbia, di un giorno in cui in una festa, una festa di gioia, avvenne qualcosa che tolse la gioia nei cuori di qualcuno. Era una festa nuziale, un matrimonio, a cui Gesù fu invitato. E fu invitato Gesù, i suoi discepoli, c'era anche sua mamma Maria. Ed è scritto proprio così, in Giovanni, al capitolo 2, dal verso 1 al verso 3, tre giorni dopo, ci fu una festa nuziale, un matrimonio, in Cana di Galilea. E c'era la madre di Gesù. E Gesù pure fu invitato con i suoi discepoli alle nozze. E venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse, non hanno più vino. Immaginiamoci, immaginiamoci quello che era arrivato in quel momento, in quella festa, in quel giorno particolare. I matrimoni ai tempi di Gesù non duravano un solo giorno, ma duravano sette giorni. E in questi sette giorni, ecco che tutti gli invitati mangiavano e bevevano a spesa degli sposi e dei genitori degli sposi. E quindi non sappiamo in che giorno, ma forse sarà il terzo o il quarto, non sappiamo. Comunque durante questa festa, cioè in questi sette giorni, venne a mancare il vino. Oh, per i genitori degli sposi, per gli sposi stessi, una brutta figura. E quindi ecco che ad un tratto andarono vicino a Maria, perché erano parenti di Maria, e gli dissero, oh, abbiamo finito il vino. Oh, era una brutta figura, era qualcosa che stava togliendo la gioia di quella festa. Ed ecco che in questi brutti momenti, ecco che in questi momenti particolari, in cui tante volte si vive bene, si vive nella gioia, ecco avvengono degli avvenimenti che interrompono la gioia nel nostro cuore. Ma in questa festa, in questo momento particolare, c'era qualcuno che poteva risolvere ogni problema. Questo ci fa comprendere qualcosa, amici cari, che nella nostra vita tante volte avvengono momenti felici, momenti in cui, oh, la gioia nel nostro cuore, momenti belli, cioè il sole risplende sulla nostra vita. Ma a volte in questi momenti accadono delle cose che interrompono questa gioia. Proprio come successe in questa festa, una festa di gioia, un matrimonio, felicità per gli sposi, per i genitori degli sposi, avviene qualcosa che toglie la gioia. Tante volte avviene anche con noi così. E questo racconto, quello che accadde quel giorno, ci fa comprendere qualcosa. Ci fa comprendere che se c'è Gesù, nonostante i problemi, nonostante le difficoltà, nonostante tutto quello che può accadere nella nostra vita, che vuole togliere la gioia, e toglie la gioia in determinati momenti della nostra vita, oh, quando c'è Gesù, c'è la soluzione di ogni problema. Infatti, che cosa accadde? Ecco che si rivolsero a Gesù. Maria andò da Gesù. Non hanno più vino. Se non ci fosse stato Gesù, forse quella festa si sarebbe andata in male modo, perché non ci sarebbe stata soluzione alcuna per quel problema. Dove avrebbero preso altro vino? Mentre invece in quella festa c'era Gesù. E quando c'è Gesù, c'è la soluzione di ogni problema. Senza Gesù, nella nostra vita, non c'è speranza. Con Gesù c'è colui che risolve i problemi. Forse ti troverai in questo momento, in un momento in cui qualcosa ha interrotto la gioia nella tua vita. Stai passando un momento in cui non c'è più felicità. Non c'è più questa allegrezza. Perché è accaduto qualcosa? Stamattina ti voglio dire che se vai a Gesù, se cerchi Gesù, se c'è Gesù nella tua vita, sarà colui che risolverà ogni problema. Quel giorno Gesù fece un grande miracolo. Trasformò dell'acqua in vino. È qualcosa che poteva fare solo lui. Ed ecco che quell'acqua che diventò vino risolse ogni problema. Ed ecco che dalla gioia si era passata alla disperazione, e dalla disperazione con l'intervento di Gesù si passò subito di nuovo alla gioia. Vuoi che la gioia torni nella tua vita? Hai bisogno di Gesù. Cerca Gesù. Vai a Gesù. Perché Gesù ti può dare la gioia. Grazie a tutti.